Un ospite per il monaco che indovina di Alessandro da Ripa Bottoni La guerra del 1915-1918 spopolò i conventi. Parecchi si dovettero chiudere, altri ospitarono uno, due padri al massimo con qualche fratello laico quando c'era. A San Giovanni Rotondo, a quei tempi, vi era un discreto numero di fratini che assorbivano le cure di padre Pio, il quale ben spesso, quando suonava la campanella della porta del convento, sollecito sbrigava anche l'ufficio di fratello Portinaio. Era proprio un bel mattino di prima estate. Padre Paolino, da casa Calenda, in cella, si preparava alla lezione da tenere in classe. Udita la campana della porta, fece per alzarsi, ma padre Pio lo precedette e il suo spirito faceto e scherzoso inventò una delle sue. Ad un tratto, padre Paolino vide presentarsi all'uscio della sua celletta un contadino di San Marco in Lamis. Aveva un cappello a forma di cono, con le falde afflosciate, cadenti sugli orecchi, scalzo e con un paio di mutandoni forti e bianchi che usano i contadini nei periodi estivi nel lavoro dei campi, lunghi fino ai ginocchi, una camicia aperta e con la giacca ripiegata sotto il braccio. Appena visto il padre Paolino, seduto sul tavolo di lavoro, senza tanti preamboli, «Voi siete il monaco che indovina?» domandò subito. L'interrogato sospettò uno scherzo di padre Pio. Lo accettò e «Sì, sono proprio io!» rispose senza esitazione. Allora il contadino, senza essere invitato, entrò immediatamente nella cella. Si sedette e quasi sottovoce cominciò. «Zi Mo!» «Zio Monaco!» «A me è capitato un fatto veramente curioso. Ieri mattina, giunto sul terreno di mia proprietà e sceso da cavallo, legai la cavezza dell'animale ad un albero e andai dietro il muro della masseria per un servizio. Tornai e con mia grande sorpresa il cavallo non lo trovai più. Immaginate come rimasi. Mi misi subito in giro per cercarlo, domandando alla gente che era lì vicino e a quella che passava se mai avesse visto il mio cavallo, ma nessuno sapeva dirmi niente. «Ho cercato per tutta la giornata, ma tutto è stato inutile. Ieri sera ho saputo che qui c'è un monaco che indovina, e perciò stamattina sono venuto per raccontare a voi che siete proprio quel monaco, il fatto. Or voi mi dovrete dire chi è stato il ladro?» Cosa poteva rispondere padre Paolino? Tanto per non restare a bocca chiusa, pescò nella mente un proverbo dialettale azzeccato al caso e con tono misterioso e sottovoce, guardando fisso quel povero contadino sentenziò. «Caro mio, colui che conosce tutte le tue cose, quello ti ruba». «Eh», disse subito il contadino, «questo me lo hanno detto anche gli altri ieri, ma nessuno mi ha saputo dire l'autore del furto. Padre, vi prego, perché non me lo dite voi?» E continuò con tono più basso. «Che, indovinate?» Guardandosi intorno come siete messe di essere ascoltato da qualcuno. «Mi dispiace», rispose il padre al contadino, «ma a riguardo non posso dirti assolutamente niente di preciso, pur sapendolo». «Padre», insisteva il contadino, avvicinandosi sempre di più al monaco, «fatemi il piacere, voi che siete tanto buono, qui io non faccio questione di denaro, perché potrei comprare un altro cavallo, ma desidero riavere quel cavallo, ma non è possibile». «E perché? Vuoi saperlo? Perché se io ti dico il nome del ladro, tu naturalmente andrai da lui oppure lo accuserei alla giustizia e allora, non essendovi stato alcun testimone nell'atto del furto ed avendo avuto il tempo di far sparire il cavallo, l'accusato farebbe a me la querela, tacciandomi di calugnatore. «E allora che facciamo? Tu non recupererai il cavallo ed io andrò in galera per te». «Padre», tornava la carica il contadino, non tenendo conto della ragione addotta, «se voi mi direte chi mi ha rubato il cavallo, consegnerò subito le 300 lire a mano a mano». «Ma no, ed allora non hai capito la ragione, non posso assolutamente». Segui qualche minuto di silenzio, il contadino riflettè un po' che poi, sempre con il solito tono sospettoso e guardingo, «Padre, 500 lire se me lo dite». «Ma hai capito che non faccio questione di denaro, ma di dignità?» «E scandendo le sillabe, per far meglio intendere la ragione, proseguì, non voglio assolutamente andare in galera per te, lo capisci?» Il contadino tentò ancora per l'ultima volta, «700 lire». Vista la irremovibilità del monaco che si era alzato per licenziarlo e che gli prometteva preghiere affinché il signore gli avesse fatto ritrovare il cavallo, il povero contadino, moggio moggio, scese le scale per tornare al suo paese. A scena terminata, si presentò nella cella del monaco che, indovina, padre Pio, tutto contento e sorridente. A tale apparizione, padre Paolino capì tutto.